Loris Zonta è un obiettivo del Taranto. La società ionica è alla ricerca di un centrocampista di qualità ed esperienza da inserire in un reparto che finora, per quel che riguarda gli esperti, vede spiccare soli Calvano e Romano. Classe 97, Zonta è cresciuto nelle giovanili dell'Inter e dal 2018 milita nelle fila del Vicenza. Il DS Veneto Matteassi ha confermato che diversi calciatori over, tra i quali lo stesso Zonta, sono in uscita. Il Taranto nel corso delle prossime ore tenterà l'affondo decisivo, ma rimane da capire eventualmente la modalità della trattativa. Il centrocampista è sotto contratto con il Vicenza fino al 2024. Il club bianco-rosso vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma sarebbe disposto a trattare anche sulla base di un prestito. Destinata a rimanere una suggestione, invece, la pista Luca Tremolada, esploso con Capuano ai tempi di Arezzo, il centrocampista classe 91 rimarrà a moda nel Serie B. Sul fronte uscite, Crecco è a un passo da Latina, Semprini, invece, continua a trattare con la Juve Stabbia. Ai margini del progetto sono finiti pure Derbisci, Canalicchio e Desarlo, che sembrano già non rientrare nei piani, mentre si vuole valutare attentamente il profilo classe 2004, che sarà di proprietà difficile a tal proposito che si proceda al tesseramento di Carnevale.